salve a tutti sono micweb e sono di nuovo qui per un nuovo tutorial oggi vi voglio presentare un plugin di wordpress secondo me molto interessante completamente gratuito si chiama apia.invp io l'ho già installato ve lo faccio vedere un attimino come si aggiunge al nuovo plugin l'ho già trattato questo tema ve lo mostro un attimino veloce veloce andiamo a ricercarlo il plugin è qui io l'ho già attivato un attimo che lo disattivo lo attivo di nuovo cos'è questo plugin adesso ve lo farò vedere andiamo sulle nostre pagine ci creiamo una nuova pagina io l'ho già fatto la pagina in questione che ho creato è conference apriamo conference aggiungiamo il codice qui apia in semplicemente così e pubblichiamo la nostra nostra pagina nel mio caso io l'ho già fatto vado alla pagina è in questione la pagina dove ho pubblicato questo plugin conferenze ho protetto la pagina cos'è questo plugin il plugin che vi mostro è un plugin per le videoconferenze videoconferenze chat e cose del genere abbiamo sulla chat su questo plugin entriamo sulla sulla room un attimo che si connette mi chiede quale microfono la camera scelgo il microfono ecco qui vediamo se troviamo qualcuno ecco ciao come mi senti bene ok mi fa un piacere questo era un test mi vedi anche abbastanza bene bene ok ti ringrazio per la tua collaborazione ci vediamo più tardi ciao vedere saranno otto persone qui fino a otto persone in cui si potrà ottenere una conferenza niente tutto ci vediamo alla prossima spero che vi sia piaciuto questo questo interessante plugin come come ripeto plugin è gratuito facile da installare è un'alternativa a skype se avete una community e vi volete incontrare online per scambiare qualche chiacchiera questo plugin lo trovo molto interessante niente alla prossima ci vediamo